In collaborazione con A5, ECAP, BIM, Bacino Imbrifero Montano del Ticino, CGL, CISL. BORDER STORIE DI CONFINE La fascia di confine e ovviamente con ripercussioni anche per l'intero territorio. Tra l'altro ci sono state a sorpresa quasi anche delle novità, incontri estivi, appuntamenti attesi per settimane, per mesi che sono poi arrivati nel clou del mese di luglio con anche qualche novità nel mese di agosto. Novità in parte positive e attese per i frontalieri. Cercheremo di spiegare tutto quello che è successo in queste settimane, in questi mesi in cui c'è stato un po' un periodo di pausa ma non per tutte le attività. Allora do subito il benvenuto a Matteo Mandressi. Buonasera. Della CGL di Como, Angelo Orsenigo. Buonasera e grazie Anna. Consigliere regionale del Partito Democratico. Alcune novità sono arrivate anche dalla regione Lombardia e quindi ovviamente cercheremo di fare il punto. Subito dopo la pubblicità avremo anche un ospite Skype collegato dalla Svizzera, un politico svizzero. Ma intanto partiamo proprio dalle novità. Poi entreremo nel dettaglio però cominciamo a dare subito una buona notizia ai frontalieri, in particolare di Sondrio perché si è chiuso un po' il capitolo degli elenchi, dei comuni di frontiera, nuovi comuni, i vecchi comuni, chi è nuovo, chi entra, chi esce. Su questo ci sono novità positive. Sì, la novità positiva è che la questione per i frontalieri, soprattutto di Sondrio ma anche Monza-Brianze, qualche comune sparso, Lecco eccetera, quindi i cosiddetti frontalieri dei comuni della nuova lista, la questione dovrebbe essere risolta. Quindi da un punto di vista fiscale siamo arrivati a un dunque e se il decreto legge verrà convertito in legge e verranno mantenuti gli impegni che sono sottoscritti in un decreto, dovremmo essere alla parola fine su questa vicenda. Allora, poi cercheremo anche di spiegare un po' le tappe perché appunto c'è stata una bozza del nuovo decreto che soddisfava non del tutto un incontro con il ministro Giorgetti e poi si è arrivata un po' a una definizione che sembra accontentare tutti. Novità anche sul fronte appunto della regione per quanto riguarda i ristorni ci sono degli sviluppi mentre ancora non si sa nulla su altre questioni fondamentali come la tassa della salute. Sì, sono ancora molte le questioni aperte, è vero che si è risolta una questione quella della lista dei comuni di frontiere e questo è dovuto soprattutto al lavoro, al grande lavoro che hanno fatto i sindacati e di cui noi dobbiamo dire grazie proprio perché grazie alla loro interlocuzione, alla loro persistenza su questo tema si è arrivati finalmente a sollecitare il governo a trovare una soluzione. E' una soluzione stata trovata quindi mettendo in chiaro quelle che sono le regole per quei comuni che di fatto si sono sempre comportati come frontalieri, quei frontalieri che risiedevano in quei comuni che sono zone di confine e si sono sempre comportati i cittadini andando a lavorare in Svizzera come frontalieri e quindi la questione in relazione alla nuova normativa si è assestata. Però ci sono ancora tanti tavoli aperti, il primo aperto e il più importante è quello della tassa sulla sanità, la tassa sulla sanità che è una partita che il governo ha già deciso e che adesso è in mano alla regione Lombardia e alle regioni quelle di confine. Le altre regioni in maniera molto chiara diversamente dalla regione Lombardia ci sono già quasi nella totalità espresse contrariamente rispetto a questa tassa sulla sanità che va a colpire nuovamente i frontalieri che vengono utilizzati come dei bancomat da parte del governo per prelevare dei soldi, la regione Lombardia invece tace. L'unica dichiarazione che noi abbiamo e ancora risaliente al periodo preestivo era quella dell'assessore Bertolaso che dice che è una tassa sacrosanta e dovuta. Tassa sacrosanta e dovuta dal suo punto di vista, non dal mio punto di vista perché i frontalieri non possono essere considerati esclusivamente un bancomat dove poter prelevare quando si ha difficoltà o si ha necessità di poter provare a dare risposta al fatto che tanto personale infermieristico e medico va dall'altra parte della Svizzera perché questa è la finalità della tassa dei frontalieri. Rimane ancora scoperto il tavolo interministeriale che non è ancora stato istituito, di cui tanto si parla, di cui c'è la necessità ma non è ancora realtà e quindi le questioni aperte appaiono essere ancora molte. Peraltro, tassa della salute, lo ha detto chiaramente Orsenigo, il governo si è già espresso in modo molto chiaro con la legge di bilancio che risale alla fine dello scorso anno. Quindi di fatto dal primo gennaio per il governo la tassa è in vigore. Il fatto che non sia ancora stato definito nulla rischia poi anche per i frontalieri di tradursi in una somma retroattiva da pagare, non si sa quando e non si sa esattamente in che quota. Sì, questo è l'effetto di un'imposizione sbagliata e gestita malissimo. Il governo l'ha ribadito, la misura tra l'altro è nella legge di bilancio, quindi lì rimane e ha una validità a partire da 2024. È a mio avviso significativo che ad oggi, fine 2024, ancora la regionale Lombardia non sia stata in grado di regolamentare questa cosa, a mio avviso perché è praticamente impossibile regolamentarla. L'abbiamo detto dall'inizio, oltre a esprimere una contrarietà da un punto di vista politico, sociale, concreto e razionale, abbiamo anche detto che questa tassa è un pasticcio gigantesco. Perché, ad esempio, i vecchi frontalieri non sono tenuti, nemmeno alla Svizzera, a dare dei riscontri in termini di notizia rispetto ai redditi dei frontalieri al governo italiano. Quindi la prima domanda che sorge è come si fa ad applicare una percentuale su delle retribuzioni che correttamente non sono note, ma perché c'è un accordo internazionale che prevede che i dati vengono trasmessi solo per i nuovi frontalieri. E su questo, come organizzazioni sindacali, oltre ad aver fatto una forte mobilitazione con l'Assemblea e una manifestazione internazionale a Como, abbiamo ottenuto un parere legale, di cui abbiamo dato notizie in una conferenza stampa, che dimostra che questa tassa è incostituzionale e va a ledere almeno tre diverse tipologie di normativa, a partire dalla normativa comunitaria, dagli accordi internazionali, eccetera. Quindi è veramente incomprensibile come si possa mettere in campo questa misura, che tra l'altro non risolverà assolutamente i problemi della sanità italiana, perché è un'impostazione completamente sbagliata rispetto a un sistema in gravissima sofferenza, ma che non ha bisogno di un incentivo economico, ha bisogno di ben altri interventi rispetto ai medici e agli infermieri, al sistema che va riorganizzato, va sostenuto, va rilanciato il sistema pubblico. Quindi questa cosa è veramente una tassa sbagliata, ma anche un intervento politico completamente decentrato rispetto alle necessità. Noi abbiamo dato conto ormai mesi fa di un ordine del giorno che è stato discusso in Regione su questo tema, poi non si è più parlato di nulla, ma perché di fatto non ci sono stati altri passi concreti? No, in effetti non era un ordine del giorno, ma semplicemente una question time che io ho posto all'assessore per capire se Regione Lombardia aveva intenzione o meno di applicare questa tassa. E la risposta dall'assessore Bertolaso, competente sulla materia, è stata quella, perché si tratta di sanità, è stata quella, la tassa è sacrosanta, i frontalieri devono pagare. Ma giusto per dare anche una misura dell'entità di quanto può incidere nelle tasse di chi ci sta guardando e del frontaliere, si può arrivare a un'imposizione annua pari a 2400 euro massimo, per cui capite che pagare anche retroattivamente questa somma che non si capisce se è dovuta dal 2024 al 2025 o dal 2025 potrebbe essere un problema, perché se è dovuta dal 2024 siamo già a settembre, quindi il frontaliere sarebbe costretto a versare anche tutti gli arretrati da gennaio fino a settembre e quindi incidendo sulle tasche nuovamente di chi già è una persona che paga le tasse, perché paga le tasse svizzera. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torniamo anche appunto con un altro ospite, vi ricordo sempre i numeri 031-330-0655, 335-7084-396 invece per i messaggi Whatsapp. A tra poco. Bentornati a Bordera, allora l'abbiamo detto, novità nel periodo estivo, prima di rientrare proprio nel dettaglio, intanto proprio un'impressione, visto che settembre è sempre un mese un po' di ripartenza nei mesi estivi, abbiamo visto anche situazioni di difficoltà economiche, situazioni di crisi che hanno riguardato anche aziende ticinesi, tra l'altro chiederemo poi conto anche all'esponente svizzero tra poco. L'impressione di questa ripresa in termini economici, anche per i risvolti per i frontalieri, c'era il timore di un calo del numero di frontalieri con il nuovo accordo fiscale, la sensazione che avete in questo inizio di stagione, diciamo? Io ho visto proprio questa mattina, preparandomi per la trasmissione, i numeri dell'Ufficio di Statistiche che sono riferiti al secondo trimestre di quest'anno e diciamo che c'è un calo del numero di frontalieri sul Ticino se lo raffrontiamo all'anno scorso nel medesimo periodo, però è un calo minimo, è un meno 0,4 e c'è un minimo di aumento invece rispetto al trimestre precedente. Quindi in sostanza secondo me questo dato è da leggere nel senso che avevamo un po' immaginato, è vero che l'accordo fiscale è un'incidenza e quindi si è ridotta la crescita che a un certo punto era veramente esponenziale. Dopodiché però le condizioni di lavoro in Svizzera sono ancora attraenti e in questo caso scontiamo invece c'è una grossissima crisi dei salari in Italia, per cui anche con la tassazione concorrente è comunque più conveniente ragionare su retribuzioni più alte, un sistema fiscale che è più favorevole. Però ripeto, il problema ce l'abbiamo in Italia e finché non lo affronteremo seriamente avremo sempre comunque il problema di una fuga verso la Svizzera di varie professionalità. Poi è vero che l'economia del canton Ticino qualche scricchio lì o lo vede e questo ha una ricaduta ovviamente anche sui lavoratori frontalieri per cui qualche problema sicuramente c'è. Sì ecco, la situazione è più o meno invariata, che era quello che noi ci eravamo prefissati quando si è modificato l'accordo fiscale, perché questo accordo fiscale è stato modificato proprio da Partito Democratico quando eravamo a governo, per cui quello dell'accordo fiscale, la rivisitazione dell'accordo fiscale è poi stata attuata da questo governo. Però è vero che nel concepimento c'era proprio il cercare di non danneggiare quelli che erano i frontalieri che avevano già maturato un'esperienza lavorativa, che erano già consolidati, che erano frontalieri che andavano già oltre i confini a lavorare e invece quelli nuovi e quindi introducendo questo doppio binario per quelli nuovi. Per cui io non vedo grosse ripercussioni a livello di spostamento o comunque di difficoltà da parte degli italiani ad andare a lavorare in Svizzera risulta ancora conveniente, come diceva bene Mandressi. È vero che l'economia svizzera sta risentendo e ovviamente quando risente l'economia svizzera i primi a pagarne le conseguenze sono i frontalieri, perché sono quelli che sono meno tutelati dal punto di vista lavorativo. Ecco, do subito il benvenuto allora intanto anche ad Andrea Censi. Buonasera. Buonasera. Lega dei ticinesi in Svizzera. Ecco, lo stavamo dicendo con i nostri ospiti in studio. Cercavamo di capire qual è un po' la sensazione dopo la pausa estiva a livello economico, quali sono le prospettive. Dicevo anche nelle scorse settimane anche in Cantonticino si è letto di qualche situazione di crisi, di alcuni comparti, di alcune imprese, attività anche abbastanza significative come numero di occupati che hanno dato qualche segnale di difficoltà. la sensazione che avete in questo momento dal punto di vista proprio delle prospettive economiche per l'immediato futuro qual è? Allora, premetto, vi sento, scusate, è una posizione di fortuna, non vi sento benissimo, ma adesso sinceramente non ho seguito l'inizio della trasmissione. Io, ma le difficoltà economiche le si può riscontrare costantemente. Non vedo adesso grandi movimenti di crisi in Cantonticino ci sono sicuramente delle problematiche dovute anche non solo a questioni regionali rispettivamente che possiamo controllare. Ci sono, sappiamo benissimo cos'è attualmente il problema a livello internazionale. Usciamo da una pandemia rispettivamente, adesso siamo in una questione legata anche a conflitti esseri che creano determinate problematiche non da noi gestibili, ma la speranza è che queste cose si risolvano, ma sono un po' fuori dalle nostre mani. Ecco, le volevo chiedere però un accenno invece anche a un tema entrando nel concreto. Si è parlato in queste settimane sul fronte della mobilità, del tema delle autostrade e dei semafori, un tema che molti frontalieri vivono quotidianamente. So che lei interviene spesso anche sul tema anche con il fronte degli automobilisti cinesi. Volevo capire se ci sono novità e sviluppi sull'argomento che magari possiamo dare anche ai nostri telespettatori. Ma questo è un tema che personalmente ho più volte cercato di tematizzare, rispettivamente non solo io, anche al nazionale Lorenzo Quadri, ma è un tema sentito penso sia per noi ticinesi, per la nostra mobilità rispettivamente anche penso per i funzalieri. Per entrare nel concreto della problematica sono poi alla fine quei semafori, teorie intelligenti che dovrebbero fluidificare il traffico, ma alla fine hanno un effetto completamente contrario e questo è anche lì un tema che però a livello federale, quindi non a livello gestibile di Gran Consiglio, di conseguenza di Canton Ticino, e sottostà all'Ufficio federale delle strade, quindi acronimo illustra. È un problema. Dopo chiaramente questi semafori a nostro modo di vedere e a mio modesto, non sono un ingegnere del traffico, ma a mio modesto parere, creano maggior problema rispetto a quello che dovrebbe esserne invece il beneficio. Poi ho visto che era uscito adesso, non mi ricordo su che testata mediatica italiana, mi sembra, non so se sul Corriere di Como o quant'altro, c'era un riferimento a Lorenzo Quadri rispettivamente a un suoto parlamentare a Berna, che andava di per sé un po' a scagionare i frontalieri, che sono d'accordo che non è unicamente il frontalierato, quindi questi semafori sicuramente non aiutano a migliorare la viabilità in Canton Ticino e sulle nostre autostrade, però è palese che comunque il frontalierato ha un'importanza primaria per quanto riguarda la viabilità rispettivamente all'occupazione delle strade in Canton Ticino, che a livello anche di interreghe cosa dovremmo riuscire a trovare una soluzione, perché se abbiamo su un paese che conta 350 mila abitanti, 80 mila macchine che entrano diventa comunque un problema a livello, perché noi non siamo la pianura padana, abbiamo le montagne, abbiamo i laghi, abbiamo purtroppo delle conformazioni geografiche che non permettono il potenziamento delle strade in modo così semplice, quindi bisogna trovare una soluzione per far sì che sia per i frontalieri che vengono a lavorare, ma anche per noi che poi dopo dobbiamo vivere in Canton Ticino, si possa avere una soluzione vivibile, scusate il gioco di parole, per poter circolare all'interno del nostro territorio, quello è sicuro. Ecco, anche questo è uno di quei temi di cui si parla abitualmente, perché comunque sia sul versante svizzero, ma anche sul versante italiano ovviamente, le difficoltà quotidiane legate anche al traffico, ai parcheggi, al traffico, ai parcheggi di interscambio, sono di fatto un tema comunque all'ordine del giorno. No, infatti questo è un problema gigantesco che è diventato esplosivo nel corso degli anni e i numeri sono evidenti. Il problema della mobilità e il traffico è un problema sicuramente per chi va a lavorare in Svizzera e per chi vive in Canton Ticino, quindi su questo sottoscrivo le parole che ho appena sentito e sono altrettanto d'accordo sulla necessità di lavorare per immaginare delle soluzioni che possano vedere in campo le istituzioni italiane e svizzere insieme. Uno strumento è l'Interreg, però su questo ci deve essere una cooperazione e a mio avviso il punto è quello di togliere dalle strade il numero più alto possibile di automobili, che vuol dire lavorare sul trasporto pubblico e quindi incentivare altre forme di mobilità perché la riduzione del numero dei frontalieri è fuori dalla logica di mercato per cui se questi 78 mila vanno a lavorare in Ticino è perché c'è una richiesta e su questo è evidente. Allora la soluzione non può che essere concentrarsi sui flussi di traffico e cercare di ridurli perché costruire nuove strade non avrebbe alcun senso visto che sarebbe una scelta sbagliata e non c'è neanche la possibilità. toglierle dall'autostrada vuol dire metterle sui mezzi pubblici e qua bisogna lavorare sui parcheggi in tescambio e su una serie di ipotesi che traguardino un futuro a medio e lungo termine perché questa è una situazione invivibile e su questo sono ovviamente d'accordo. Un lavoratore che va in Canton Ticino almeno soprattutto se va verso Lugano oltre Lugano quattro ore al giorno rischia di passarla in automobile. Un ticinese non riesce a spostarsi e quindi paga la conseguenza di una condizione insostenibile bisogna sicuramente immaginare degli interventi molto pesanti e penetranti. Tra l'altro c'è anche il capitolo Treni. Orsenigo ne ha parlato proprio anche nelle scorse settimane. Arrivo perché c'è anche un messaggio proprio su questo. Sentiamo prima però anche chi abbiamo al telefono. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Sono Roberto di Bergamo. 40 secondi per una domanda veloce all'esponente della CGL. Sempre che la domanda non sia sulla cannabis però... No, no. Perfetto. No, non parlo di... Rispondo anche a quella domanda. Ma non è fuori tema. Però di solito questa voce la associo a questa domanda. In qualsiasi trasmissione. Prego. No, ecco, io volevo chiedere a lui cosa mi pensa del lavoro da remoto. Dato che io sono un individuo civile e mi piacerebbe collaborare con le aziende comasche o svizzere, da qua da Bergamo, con internet, con la posta elettronica per farle conoscere, per farle crescere. Sono bravo. Ci mandi qualcosa alla nostra redazione che la giriamo allora. Che la giriamo. Come lavoro da remoto può farlo nell'ambito dei limiti previsti dalla normativa. Quindi il famoso 25%. Poi sulla cannabis non so cosa sostiene di solito. Questa era la sua... Penso di essere d'accordo se parliamo di un certo tipo di ambito. Ma non è l'argomento. Al di là delle battute. Torno ai treni perché mancano le coincidenze, ci scrive un telespettatore. Per esempio il Lugano Como San Giovanni arriva a Como San Giovanni alle 18.50 e poi il Como San Giovanni Porta Garibaldi parte alle 18.49. Quindi sembra paradossale, sembra fatto apposta per far perdere la coincidenza. È un esempio che ci viene fatto, ma il tema che è stato sollevato anche con una richiesta di incrementare il numero dei collegamenti tra Ticino e Lombardia che non ha avuto di fatto però al momento un seguito. Sì, ne abbiamo parlato nell'ultima riunione dove il Gran Consiglio del Ticino è venuto in Regione Lombardia e abbiamo discusso di queste tematiche che sono innanzitutto legate alla mobilità. Giustamente Mandressi diceva che non c'è la possibilità di costruire nuove strade né tantomeno la disponibilità economica ma soprattutto anche la volontà perché se dobbiamo ragionare in un'ottica green, in un'ottica di futuro, in un'ottica di sviluppo sostenibile del nostro territorio non possiamo incrementare le strade. Quindi bisogna incrementare quelli che sono i servizi pubblici garantendo non solo treni che si possono incrociare e quindi si possono prendere ma soprattutto anche gli stalli di parcheggio dove poter parcheggiare perché se attualmente un pendolare comasco che va in Svizzera parcheggio a San Giovanni non c'è il parcheggio perché per il privato che concedeva questo parcheggio ha deciso di non darlo più in concessione e quindi proprio in questi giorni ho fatto richiesta alla Regione Lombardia di un interessamento di una questione che riguarda non solo il Comune di Como ma riguarda veramente tante persone perché i posti che sono stati tolti sono circa 240. Qualche segnale di apertura almeno sulla carta c'è stato? C'è stato un segnale di apertura però immagino che non sia un problema che riguarda solo Comune ma riguarda anche le altre province da cui ci stanno guardando il tema del trasporto sostenibile quindi treni che portano i pendolari che vanno a lavorare in Svizzera quotidianamente i frontali che vanno a lavorare in Svizzera devono essere incrementati, ci deve essere l'accessibilità quindi la possibilità di poter parcheggiare e questo investimento è l'investimento migliore da parte dell'Italia e da parte della Svizzera per agevolare il lavoro trasfrontaliero e soprattutto risolvere qualche problema in canton Ticino o nel canton Grigioni ma anche qualche problema in frontiera che noi decisamente troviamo e abbiamo tutte le mattine. Prima di tornare anche al tema risorni, Censi sul trasporto ferroviario ecco i Tilo sicuramente sono un esperimento riuscito, un sistema che mostra di funzionare con appunto però degli elementi anche di difficoltà e un servizio che magari ormai dovrebbe già essere anche incrementato visto che i risultati comunque li ha portati. Ma allora devo dire che il Tilo è stato sicuramente un esperimento riuscito, è stato incrementato anche negli ultimi anni in modo molto importante e il problema è che anche la possibilità e il potenziale dello sfruttamento della linea ferroviaria non ha più un grandissimo margine. Quindi sul principio di cercare di trasportare le persone dal veicolo privato al trasporto pubblico. Il principio è bellissimo e sono concorde ma è abbastanza utopico anche perché la linea ferroviaria così come dicevo prima le strade in canton Ticino non sono così facili da implementare e da aumentare. Noi abbiamo ogni chilometro una galleria, sono investimenti di tantissimi milioni e se dobbiamo parlare del canton Ticino sicuramente di miliardi semplicemente per andare a portare una linea ferroviaria in più. Quindi bisogna anche confrontarsi un po' con quello che è la realtà. È chiaro che se ci sono 80 mila frontaglieri ce la richiesta in canton Ticino magari quello che possiamo andare a cercare di migliorare magari è la presenza su questi automobili perché ci sono 80 mila automobili ed una persona per automobili spesso e volentieri. Rispettivamente come ho detto prima e come ha detto anche il sindacalista il metodo dell'Interreg può essere una soluzione. Poi è pur vero che se devo fare un caso concreto di quello che l'Interreg ha partorito in un progetto è abbastanza imbarazzante se parliamo dell'autosilo che è stato costruito a Ponte Tresa quindi a ridosso del confine Svizzero per poi permettere al lavoratore italiano che viene in Svizzera o che viene in canton Ticino a lavorare di spostarsi sul mezzo pubblico è stato un fallimento totale perché già solo i presupposti erano non sbagliati ma peggio hanno fatto un autosilo completamente gratuito senza quello che noi chiamiamo il park and ride quindi senza nessun vincolo di utilizzo quindi abbiamo creato un posteggio gratuito a Ponte Tresa ma che obiettivamente non ha raggiunto assolutamente lo scopo di trasportare i pendolari italiani che vengono in Ticino sul mezzo pubblico quindi anche lì l'Interreg potrebbe essere un bel mezzo ma probabilmente bisogna lavorarci di più e bisogna anche quando si finanziano dei progetti strutturarli e pensarli in un pochino in modo più concreto ed efficace. Ecco poi su questo magari ci riserviamo anche di ovviamente sentire anche una replica anche del sindaco eccetera perché comunque giustamente non è in studio questa sera non è presente ma è chiaro che è un tema su cui vale la pena ragionare e capire anche come sta procedendo sentire anche la replica ed è vero anche che tra l'altro a breve ci sarà un'altra scadenza Interreg perché comunque il nuovo termine è fissato tra fine anno e inizio dell'anno prossimo quindi la speranza che vengano avanti progetti significativi anche in questo senso comunque al momento c'è, ci sono stati fatti anche degli incontri anche a Varese incontri anche significativi per cercare collaborazione, partnership e andare avanti si può sperare ancora in qualche progetto in questo senso alla prossima scadenza? Ah quello è sicuro anche perché l'Interreg ha proprio lo scopo di proporre delle soluzioni approfondire e studiare con tutte le istituzioni che lo fanno di mestiere a caso sono coinvolte le università, gli enti pubblici eccetera poi sono anch'io d'accordo che l'Interreg non è l'unico strumento però è uno strumento importante a disposizione che può produrre delle idee e delle proposte ci sono dei finanziamenti e anche l'ultima cosa che stava dicendo il rappresentante della Lega di Ticinesi va in questa direzione quando si dice ci sono tantissime macchine con un singolo individuo sull'automobile sicuramente, questo è un dato di fatto esatto, ma se non ci sono i parcheggi di intescambio è anche difficile trovare il sistema di lasciare delle automobili e fare il cosiddetto carpooling come in parte si era tentato di fare bisogna continuare a investire su queste cose quindi non c'è un'unica soluzione l'unica soluzione non è solo il mezzo pubblico è un insieme di soluzioni che però devono avere l'obiettivo di togliere macchine dalle strade poi sono perfettamente d'accordo con lo senigo quando si dice non si costruiscono le strade non perché non ci sono i soldi ma perché non esiste in un'ottica di compatibilità ambientale non avrebbe alcun senso in una regione tra l'altro come il Ticino che è un piccolo gioiello ma che di strade ne ha già sufficienza fondi interreg ma anche risorse fondamentali sono quelle dei ristorni dei frontalieri per tantissimi comuni sono una voce fondamentale del bilancio anche su questo capitolo ci sono state novità nel periodo estivo con decisioni che sono arrivate proprio dalla regione Lombardia andiamo a sentirle così poi possiamo commentare anche con Orsenigo e capire cosa dobbiamo aspettarci andiamo a sentire le servizie si allarga la platea dei comuni che riceveranno i ristorni dei frontalieri e si alza il limite massimo per l'utilizzo dei fondi da parte degli enti per realizzare e completare e potenziare opere pubbliche sono le principali novità che riguardano i nuovi criteri di ripartizione dei ristorni dei frontalieri per i comuni per decine di amministrazioni della provincia di come i ristorni costituiscono la principale voce di entrata perché i residenti sono per lo più lavoratori che pagano le tasse solo in Svizzera la giunta regionale ha approvato la delibera riguardo i nuovi criteri di ripartizione e di utilizzo delle compensazioni finanziarie per gli anni 2022 e 2023 operate dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine i nuovi criteri spiega Massimo Sertori assessore regionale con delega ai rapporti con la confederazione elvetica saranno adottati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze nei prossimi giorni e regoleranno il conferimento delle somme aspettanti per quest'anno e per il prossimo ai comuni rientranti nella fascia dei 20 km dal confine nei quali risiedono lavoratori frontalieri in Svizzera nello specifico più comuni riceveranno direttamente i fondi da parte del MEF per l'utilizzo in favore di interventi sul territorio si tratta ora dei paesi di confine in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno rappresenta almeno il 3% e non più il 4% dell'intera popolazione residente la restante quota del ristorno fiscale delle imposte verrà trasferita dal MEF direttamente alla regione Lombardia che secondo le modalità che saranno determinate con successivi atti saranno impiegate per la realizzazione di interventi a favore della collettività residente nei territori di confine il raccordo e coordinamento con le province e le comunità montane di frontiera infine altra novità è stato innalzato dal 30 al 50% il limite massimo per l'utilizzo dei fondi in parte corrente da parte degli enti assegnatari per la realizzazione completamente e potenziamento di opere pubbliche ed interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri i provvedimenti sono in linea con quello che avevamo chiesto dice Giuseppe Augurusa responsabile nazionale frontalieri della CGL avevamo chiesto esplicitamente di inalzare la quota per la spesa corrente questo è stato formalizzato per quanto riguarda la soglia percentuale passata al 3% noi puntavamo addirittura a toglierla conclude per allinearci al Piemonte Allora sulla carta anche in questo caso novità abbastanza significative e positive per molti comuni e anche per le possibilità appunto di utilizzare in modo più efficace le risorse dei ristorni Sì, dopodiché mi viene da ridere perché sono temi di cui discutiamo da anni e quindi si è parlato già da tempo di togliere questo limite del 4% perché ci sono comuni che hanno il 4% dei frontalieri quindi non prendono direttamente i ristorni ma vengono assegnati alle comunità montane o alle province di riferimento dopodiché io però devo dire questa cosa perché mi sento di dirla e la penso veramente purtroppo i comuni tante volte non utilizzano questi soldi per come dovrebbero essere destinati perché sulla carta c'è un vincolo di destinazione di uso ma poi di fatto non c'è un controllo sull'effettivo utilizzo dei ristorni dei frontalieri a favore di una mobilità a favore di questioni che riguardano anche i frontalieri stessi e vengono utilizzati per coprire spese correnti che variano dall'assistenza ai disabili da quelle questioni che sono più strettamente connesse alla vita quotidiana del comune allora se un frontaliere paga le tasse e la Svizzera rende qualcosa di queste tasse che sono pagate al paese di appartenenza del frontaliere il frontaliere dovrebbe avere la possibilità di vedere qualche miglioramento in suo favore e capire come vengono spese le sue tasse per qualcosa che migliori la vita del frontaliere stesso molto spesso questo non accade e i comuni, questo lo dico non contro i sindaci però utilizzano queste risorse semplicemente per far quadrare i conti del bilancio e allora sui ristorni voglio sentire anche Censi però perché spesso in realtà i ristorni dalla Lega dei Ticinesi anche da altri partiti svizzeri vengono utilizzati un po' come forma ricatto è una parola forte però diciamo quando ci sono questioni da risolvere tra Italia e Svizzera spesso è capitato di proporre blocchiamo i ristorni fino a che non otteniamo un determinato risultato siamo più sereni in questo momento sul tema ristorni? Ma diciamo che adesso è stato fatto un accordo non è ottimale perché se guardiamo accordi che ci sono anche con altri cantoni chiaramente io tiro la corda dalla mia parte di conseguenza ci sono altri cantoni che hanno delle percentuali sicuramente più vantaggiose per quanto riguarda il popolo del Cattogrigioni in questo caso per noi a livello ticinese potremmo anche fare meglio poi sono felice di sentire questo più che altro per voi che viene comunque reindirizzato in modo più diretto alla regione Lombardia e non tutto finisce nel calderone di Roma così che magari i soldi possono essere utilizzati in modo un pochino più puntuale dopo non voglio entrare sinceramente a fare il professore in casa altrui dal nostro canto comunque c'è ancora un gap sicuramente di svantaggio adesso io non parlo a livello di aziende perché sicuramente le aziende se prendono il frontalierato hanno una necessità lavorativa rispettivamente un ritorno economico però per quanto riguarda quello che ci resta a livello di entrate fiscali rispetto a quello che può essere paragonato che sono alla fine il frontalierato perché crea discussione in canton Ticino sono due i macrotemi e per importanza il dumping salariale e poi il traffico con tutte le conseguenze disagi non solo di mobilità ma anche finanziarie quindi sono questi i due macrotemi che mettono sempre in contrapposizione se si vuole il Ticino e in questo caso i comuni di confine Barra, Lombardia e l'Italia se si trovasse una soluzione un pochino più ottimale cominciando magari dal traffico rispettivamente riuscendo a trovare una soluzione anche a livello di mercato del lavoro probabilmente riusciremo a convivere sicuramente molto meglio e in modo prospero senza noi andare a rubare magari personale che anche a voi serve e evitare appunto questi confronti che alla fine potrebbero essere positivi e non solo distruttivi come spesso spesso e volentieri viene quantomeno rappresentato dalla staffa Allora al traffico si collega anche il tema del telelavoro e ci torniamo subito dopo la pubblicità Bentornati a Border Allora ci restano una decina di minuti volevo toccare anche il tema telelavoro abbiamo perso il collegamento ma mi sembra comunque corretto farvi intervenire anche sul tema dumping e appunto quello che abbiamo appena sentito dal politico svizzero Ma sì una considerazione al volo Censi era stato abbastanza bravo fino adesso poi è caduto alla fine è uscito lo spirito leghista un po' demagogico Allora intanto i frontalieri non sono due problemi ma i frontalieri sono una risorsa Il traffico è un problema non sono i frontalieri che creano il problema del traffico se non per in via incidentale Chiusa prima questione basta con questa questione del dumping associato ai frontalieri come problema creato dai frontalieri i frontalieri non si pagano gli stipendi da soli e non si fanno le offerte di lavoro è evidente che c'è un problema di dumping il dumping lo pagano i frontalieri perché vengono pagati meno e quindi i datori di lavoro svizzeri paghino correttamente i frontalieri quella è la soluzione non ce n'è un'altra non possiamo eliminare i frontalieri perché se eliminiamo i frontalieri la sanità la ristorazione il turismo chiudono in Ticino c'è un problema ripeto di retribuzioni la legge sul salario minimo in Svizzera anzi in Canton Ticino in questo caso in parte ha aiutato a mettere un limite però il problema sussiste ma il problema ha dei responsabili e delle vittime che sono sia i lavoratori frontalieri che i lavoratori svizzeri quindi ne pagano le conseguenze ma c'è qualcuno che fa la politica dell'offerta e qualcuno che paga le retribuzioni è lì che bisogna andare a intervenire non sui lavoratori e le lavoratrici ripeto italiane e svizzere che pagano le conseguenze di questa situazione Orsenigo no sottoscrivo parola per parola quello che ha detto adesso Mandressi discostandomi un po' da quello che abbiamo sentito perché effettivamente i lavoratori frontalieri non possono essere considerati solo come un problema ma sono risorse che l'Italia dà alla Svizzera anche comunque non dico presta ma nello stesso tempo prestano un'opera di lavoro importante all'interno del sistema economico svizzero per cui dispiace sentir dire dal rappresentante del governo del Gran Ticino del Consiglio Gran Ticino che i frontalieri sono visti solo come due problemi per cui sono ben altro i frontalieri e dovremmo anzi essere quasi non dico ringraziati però tenuti in considerazione proprio per la mano d'opera la professionalità che noi portiamo e diamo valore aggiunto alla professionalità che sicuramente c'è in Canton Ticino e che comunque messa insieme porta a essere una grande forza economica anche la Svizzera ecco poi non so se possiamo far replicare ancora eventualmente Censi volevo solo prima fare però ancora anche un accenno al telelavoro perché ci sono un po' di ce lo chiedono ovviamente se ne è parlato anche in questo caso nel periodo estivo in qualche modo è stata raggiunta una soluzione che però non ha cambiato molto le carte in tavola rispetto a quello che si era detto in precedenza sì è stato sostanzialmente ratificata la condizione che era stata definita e noi l'abbiamo definita un'occasione persa perché era il momento per fare un intervento e regolarizzare il telelavoro rispondendo alle necessità attuali che sono quelle di una parte che sia di conciliazione ma anche di necessità per le aziende di utilizzare questo strumento il 25% che è quello che è possibile e sarà possibile quindi sostanzialmente una giornata alla settimana è veramente troppo poco e tra l'altro è disallineato rispetto alle politiche di protezione sociale che invece vedono una possibilità che arriva fino al 50% quindi c'è una divaricazione e però purtroppo questa è al momento la normativa di riferimento noi ci auguriamo che possa comunque essere in prospettiva modificata andando incontro alle esigenze del sistema produttivo che sono altre ecco non so se appunto voleva replicare Censi sì volontieri grazie perché allora con Mandresi allora comprendo assolutamente lui è giustamente un sindacalista quindi punta come anche da noi succede sicuramente chiuso quello che è l'aspetto salariale ma l'inserimento di un salario minimo in Cantonticino non è la soluzione per l'unica soluzione o rispettivamente l'ultima soluzione per mettere a posto quello che è il mercato del lavoro in Cantonticino rispettivamente il dumping salariale perché il dumping salariale arriva dall'incremento se si vuole del frontalierato nel settore terziario che fino a pochi anni fa la decina di anni fa era sicuramente molto meno importante prima era principalmente nel secondario ed oggi questo invece ha creato una riduzione dei salari ma anche perché il problema è che la legge federale quindi il diritto superiore per noi noi abbiamo legge creato a livello cantonale abbiamo inserito un salario minimo ma purtroppo la forchetta che passa da un settore all'altro è molto limitata di conseguenza il salario minimo che noi abbiamo inserito per una persona che vive e lavora in canton ticino è comunque troppo basso per un frontaliere chiaramente è un miglioramento ma non rende attrattivo il posto di lavoro in canton ticino poi più che altro una replica dovuta secondo me è al rappresentante del partito democratico prima perché a me non piace che mi vengono messe parole in bocca o vengono travisate le cose che io dico io non ho detto che i frontalieri sono un problema i frontalieri creano dei problemi rispettivamente sono una risorsa necessaria da sempre per il nostro paese perché senza il frontalierato come ben hanno detto la ristorazione probabilmente non funzionerebbe non funzionerebbe il sistema sanitario come prima non funzionava tutto il sistema dell'edilizia senza l'apporto dei lavoratori italiani che venivano in canton ticino il che non non vuol dire chiudere gli occhi e non dire che comunque delle problematiche invece oggi ci sono e le ho dette prima uno è il tante in sala reale per ordine di importanza secondo è il traffico che generano su sulle nostre strade e qui sinceramente se invece di continuare a spararci contro riuscissimo invece a trovare delle soluzioni concrete magari con tutti i mezzi che ci sono dall'Interreg ma come diceva appunto anche Zidane che ci sono diverse di altre cose che si possono fare magari potremmo convivere senza spararci contro come invece il rappresentante del PD ha appena cercato di fare con me diciamo che l'invito a collaborare è sicuramente da prendere molto positivamente credo che arrivi da entrambe le parti anzi in più occasioni è stato sottolineato come la strada sia quella comunque di una collaborazione quasi indispensabile e obbligatoria tra le due parti politiche assolutamente sì ci mancherebbe rinnovo l'invito alla collaborazione ma io faccio parte della Commissione Italia Svizzera per cui partecipo a tutti i tavoli c'è sempre stata la disponibilità sia da parte del Canton Ticino sia da parte della regione Lombardia di lavorare insieme proprio per trovare le soluzioni per permettere ai frontalieri e al Canton Ticino e all'Italia di lavorare nella più stretta sinergia solo che molto bene abbiamo interpretato queste parole che lei ha usato in maniera magari un po' leggera indicando come due problematiche che creano i frontalieri sì ok ci sono delle problematiche che vengono create ma ci sono anche dei benefici che adesso lei ha ben evidenziato chiarendo la situazione che mi rasserenano e che quindi fanno capire che da parte nostra c'è tutta la volontà sia da parte di regione Lombardia che immagino da parte sua di lavorare insieme un dialogo sicuramente da riprendere assolutamente un contratto esatto un dialogo sicuramente da riprendere per questa sera il tempo proprio sta arrivando agli sgoccioli voglio chiudere solo con un flash con Rossinigo abbiamo detto le novità estive c'è qualcosa in calendario per i frontalieri lo abbiamo detto non ci sono novità ancora su tanti temi a partire dalla tassa della salute ci sono scadenze fissate per quanto riguarda la regione Lombardia per quanto riguarda la regione Lombardia c'è l'assemblea Regio Insubria che si terrà breve il 26 di settembre dove si discuterà quindi la regione Lombardia insieme a tutti gli appartenenti a Regio Insubria si troveranno e discuteranno dopodiché è vero che la commissione Italia Svizzera in questo momento non ha ancora un calendario fissato e oltretutto purtroppo questa volta la commissione Italia Svizzera ricomprende da parte della regione Lombardia anche la parte della montagna per cui essendo una commissione speciale e ritrovandosi ogni 15 giorni capite che i temi che riguardano l'Italia e la Svizzera vengono toccati una volta al mese e quindi questo è un grosso vulnus è un impoverimento di ragionamento da parte di regione Lombardia a favore dei frontalieri e a favore del dialogo con la Svizzera di cui purtroppo dobbiamo prendere atto noi continuiamo a sollicitare incontri sempre più pressanti sui temi che abbiamo detto all'inizio che sono temi importanti che riguardano sia l'Italia che la Svizzera e allora intanto ci segniamo la scadenza del 26 per questa sera il tempo a nostra disposizione è terminata ringrazio Cenzio Senigo e Mandressi e ovviamente chi ci ha seguito da casa e Border torna mercoledì prossimo buona serata in collaborazione con A5 ECAP BIM Bacino Imbrifero Montano del Ticino CGL CISL CISL Bacino Imbrifero Montano